Chi registriamo oggi? L'ottavo nano, Ursulo Ursulo, ecco l'Ursulo Noi nani siamo così E' Urzolore qui E canta insieme qui Ciao Ciao ragazzi, comprate il disco Vabbè ve lo regalo Eccoci qua, vedi? Marco appena cantato E' già qua, guarda Come è andata? Poteva andare meglio Non è vero, scherziamo ragazzi Ci vediamo alla prossima puntata Di che presto sarà pronto il tuo disco Presto sarà prontissimo il disco Che è un parto Perché ormai stanno andando avanti da Da un bel po' A me non viene bene Saluta, saluta Ciao mamma Ciao casa Viamo